Salve a tutti amici di Spazio e bentornati sul nostro canale YouTube. Apple ha rilasciato per tutti gli sviluppatori la beta 2 di iOS 14. In questo video andremo a vedere quelle che sono le principali novità introdotte da questo aggiornamento rispetto alla versione precedente. Però prima di iniziare come al solito vi invito a lasciare un bel mi piace a questo video e di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto ricordando cosa molto importante di attivare le notifiche facendo un click sull'icona della campanellina. Innanzitutto notiamo qualche miglioria grafica per quanto riguarda le icone di alcune applicazioni come ad esempio l'app calendario dove prima appariva il nome del giorno scritto per esteso adesso invece appare ridotto e con un font non più regolare ma grassetto. Stesso discorso vale anche per l'app orologio dove ad apparire diverse suono in questo caso le lancette che adesso sono più spesse e di conseguenza più visibili. Sempre a livello grafico è stato ridotto il pop up che vediamo quando un'applicazione accede alla clipboard anche se nonostante la riduzione a mio parere appare ancora forse troppo invasivo. Passando ai widget adesso dall'apposito menu possiamo aggiungere quello relativo all'app file che essenzialmente dovrebbe mostrare i file aperti più di recente. Al momento mancano ancora moltissimi widget di sistema e l'aggiunta dell'app file ci fa ben sperare anche per quanto riguarda magari i pannelli come quello del fuso orario relativo all'app orologio che abbiamo visto durante la presentazione. Quando selezioniamo la dimensione di un widget il tasto che ci permette poi di aggiungerlo alla nostra schermata home adesso appare colorato in tema con l'icona della relativa app. Ultima novità per quanto riguarda i widget la ritroviamo nella versione piccola di quello relativo all'app ProMemoria che adesso mostra non solo il contatore ma anche una piccola task nella parte bassa della schermata. Queste sono in sostanza le principali migliorie introdotte da questa beta che possiamo dirlo sono forse abbastanza insoddisfacenti. Tuttavia però siamo ancora alla seconda beta Apple non ha ancora rilasciato alcuna beta pubblica quindi fino a settembre possiamo dire che c'è ancora molto tempo per introdurre cambiamenti sostanziali. Per il resto il sistema adesso appare molto più fluido e questo considerando che siamo ancora appunto alla seconda beta basta per renderci soddisfatti vista l'esperienza negli anni passati con le prime versioni beta di altre versioni di iOS che erano veramente disastri. Pare essere stato risolto anche il bug che inchiodava per qualche secondo la tastiera quando si selezionava un emoji quindi insomma meglio di così non può andare. In ogni caso sul nostro blog trovate un articolo interamente dedicato in continuo aggiornamento dove aggiungeremo nel caso le trovassimo ulteriori novità che ci sono sfuggite riguardo l'aggiornamento come ad esempio segnalo al volo la nuova icona della sezione in famiglia che troviamo nelle impostazioni oppure le nuove opzioni dell'app musica che permettono di disattivare manualmente la cover art o di limitare lo streaming quando non siamo sotto rete wifi. Come al solito vi invito a lasciare un bel mi piace a questo video di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto ricordando di attivare l'icona della campanellina e seguirci su tutti i nostri social. Io sono Rocco Zaccaro e vi do appuntamento al prossimo video sempre qui su Spazio.